Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, San Francesco d'Assisi che ci ricorda che Padre Pio era un suo figlio e ci ricorda anche il grande amore che aveva Padre Pio per l'ordine dei frati Cappuccini. Vogliamo parlarvi proprio di un confratello che ha raccontato e per iscritto tante testimonianze, Padre Eusebio Notte, che ha scritto anche un libro, è stato anche assistente di Padre Pio per diversi anni. Padre Eusebio ci racconta un episodio che ha dello straordinario, come tanti altri, ma questo ci colpisce proprio perché è andato contro una raccomandazione di Padre Pio. Eh sì, cosa era successo? Era successo che Padre Eusebio doveva partire, doveva andare in Irlanda e doveva prendere un aereo. Il biglietto gli era stato offerto da degli amici, il biglietto di andata e di ritorno. Padre Pio, nel momento in cui lo salutò, gli raccomando, figlio, non prendere l'aereo. Vai in macchina, vai in treno, prendi qualsiasi altro mezzo, ma non prendere l'aereo. Padre Eusebio ascoltò queste raccomandazioni, ma poi aveva già fatto il biglietto, questo biglietto che gli era stato offerto dagli amici, non voleva offendere nessuno. Padre Eusebio parte per l'Islanda. Non dice nulla a Padre Pio che prende l'aereo. Sta in Irlanda circa una settimana, prende l'aereo. L'aereo attraversa una fortissima turbolenza e un fulmine distrugge letteralmente un motore dell'aereo. Paura, panico, terrore. Possiamo immaginare quello che accadde nell'aereo. Furono attimi di panico. Il pilota immediatamente comunicò a tutti che doveva effettuare un atterraggio di emergenza. In quel momento Padre Eusebio ricorda l'ammunizione e la raccomandazione di Padre Pio. Non doveva prendere l'aereo. In quel momento comincia a pregare e manda il suo angelo custode qui a San Giovanni Rotondo da Padre Pio affinché ascolti la sua preghiera e quella di tante persone che erano con lui sull'aereo. Nel volo successe di tutto ma il pilota riuscì ad atterrare. Pericolo scampato. Padre Eusebio torna in Italia. Torna a San Giovanni Rotondo. Va a salutare Padre Pio e subito avvicinandosi non aspetta neanche che Padre Pio gli dica qualcosa. E lui il primo a dire Padre ti ho disobbedito. E Padre Pio con un sorriso dei suoi disse Eh Padre Eusebio devi ringraziare il tuo angelo custode che è riuscito ad avvisarmi in tempo. Perché ce la siamo vista proprio brutta. E poi con un altro video! E poi con un altro video!